Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito safegatepro.com Bentornati all'appuntamento con le previsioni del tempo di TV6. Nel corso di questo mercoledì assisteremo ad un netto rinforzo dell'alta pressione delle azore su tutta Italia. Questo anticiclone spazzerà via le correnti artiche arrivate nelle ultime ore che hanno portato tanto vento, freddo e qualche nevicata sino a quote culinari al centro e al sud. Pertanto sarà una giornata soleggiata su quasi tutta Italia, ancora qualche nube residua sulle isole maggiori e un po' di nubi addensate sull'arco alpino sui settori di confine. In Abruzzo giornata quasi primaverile per effetto dei cieli sereni praticamente ovunque e avremo anche un leggero aumento delle temperature nei valori massimi, i valori compresi tra i 6 e gli 11 gradi. Farei invece molto freddo di notte all'alba. Ci aspettiamo valori minimi, molto bassi nelle aree interne, quasi ovunque inferiori allo zero, qualche grado in più solo sulle coste, però comunque sempre ridosso dei 2-3 gradi sui tratti costieri alle bassissime quote fino a meno 4 previsti sull'Aquila. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. SafeGate Pro Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visite il nostro sito.